Ciao! Allora, nuovo video, nuova location, infatti siamo, diciamo, nell'ingresso di casa mia Mi piace molto come location, quindi diciamo che vorrei optarlo un po' più spesso Nel frattempo che mi sistemi i capelli, perché da quando sono corti basta un pochino di gel Oh mio Dio, sembra un'altra cosa che nemmeno voglio dirti Comunque mettiamolo in abbondanza, così vengono i capelli ben lucenti, così li uccidiamo ancora prima di sistemare i miei capelli Ragazzi faccio così E sinceramente li asciugo con un po' di tovaglia per levare l'effetto bagnato Però oggi li lascio così, perché a parte che è sera, quindi a momenti devo uscire E niente, comunque il senso del video non è assolutamente questo, quindi arriviamo, diciamo, al senso del video Io scusatemi vado ad asciugarmi le mani e torno subito Avevo praticamente, come dire, oggi praticamente avevo, ho fatto una riflessione Avevo i capelli lunghi, comunque mi piacevo Però con i capelli corti vedo che sto riscuotendo molto successo Dal che ho conosciuto una persona, che praticamente, diciamo, ci siamo conosciuti in una chat Ci siamo visti su Skype, non abbiamo fatto sexting Per chi non saprebbe che cosa significa Praticamente ti può mandare delle foto spinte Perché vogliamo comunque vederci di persona E quindi, che cosa è successo? Siccome non è della mia stessa città, vi ripeto, io sono di Palermo e lui è di Capaci Che è sempre in provincia di Palermo Però super giù sono tipo 20 minuti di autostrada che deve fare Super giù, ve lo dico, dipende da come vai, diciamo, in autostrada Quindi diciamo che oggi deve venire da me, che avevo casa libera E' libera, quindi posso pure sbraitare E giusto giusto, tac, non l'ho potuto far venire perché mi è venuto un dolore fortissimo alla gola Ho un mal di gola terribile, le gambe che se mi mettono in piedi tipo muoio Infatti tipo, a momenti devo scendere Devo dirvi veramente che non ne ho voglia perché mi sento le gambe e mi fanno Quindi ancora tipo sono Sono tipo in disabili di casa, la mia coscia bellosa E sono in mutande quindi ancora mi dovrò andare a vestire Ma comunque avevo, andiamo al punto del video Allora intanto voglio dirvi che sono al 20% Quindi se a momenti sentirete tipo Titti perché a 15 mi avvisa come la morte Dovete sapere che il mio telefono fa abbastanza schifo Oramai quindi a dicembre non so se farò più il tatuaggio Perché ho bisogno di un nuovo telefono Questo oramai mi sta abbandonando Comunque, panno alle scienze Allora nel senso del video Allora, volevo parlare oggi con voi di voglie Perché di voglie culinarie? Tra parentesi Perché ultimamente ne sta avendo veramente tante Tipo io penserei Ma sono incinto Però no, veramente Ho moltissime voglie La cosa migliore Delle voglie culinarie Ma proprio forti, forti, forti Che poi alla fine Dopo che abbiamo sempre la voglia C'è alla fine il disprezzo Nel senso c'è sempre una negativa sulla voglia Perché vi spiego Allora Vediamo se anche a voi è capitato Allora, ieri praticamente avevo una voglia matta Di castagne calde Questi tipo che li fanno per strada Che poi preferisco farmele io a volte Perché adesso vi spiego E perciò scendo Non è che scendo io Scendo in mia sorella E dico praticamente È una telepatia Penso pure io Perché di mattina Io faccio a mia madre Mamma, mamma Ho voglia di castagne Quest'anno ancora non le ho mangiate E comunque quest'anno non ho assaggiato Non con la pollanca Però sinceramente La pollangiella Però diciamo che Avevo questa voglia proprio di castagne forti Forte, forti Dopo mi è uscito E praticamente di sera Niente sapendo Me le porta mia sorella Io tipo Perciò Felicissimo Le castagne Me le mangio Erano greve Greve Da morire Senza un briciolo di sale Non che erano greve Erano dolci Perché alla fine Le castagne sono dolci Però Avevano quel sapone Molto dolce Che Alla fine ho detto Non ne voglio più Proprio perché Ne avevo la voglia Ora Scusate Poi che cosa succede Ieri avevo voglia di mattonella Che praticamente Apparello Sarebbe una sfoglia Finissima Con dentro Prosciutto Pomodoro Mozzarella Tutto sciolto Tipo pizza A volte c'è chi mette pure Il wustel Nel salame Però Io Di solito Mangio quella classica Perché di solito Quella troppo piena Poi Riempia un po' subito Perciò Glielo dica mia sorella E me non Non ha voglia di mattonella Perciò Arriva mia madre Di pomeriggi Mi porta la mattonella E era fredda Allora La mattonella È buonissima Calda Ragazzi Cioè A me siccome seccava Riscaldarla L'ho mangiata fredda Non era per niente Lo stesso sapore Che io Mi era immaginata Quindi questo è tutto Il discorso delle voglie Cioè Quando uno Ha una voglia Veramente forte Viene sempre deluso Alla fine Anche un po' come Le persone incinte Che hanno strane voglie Nei strani periodi Tipo Ve ne racconto una Una volta Cosa si è accesa Alla luce della scala Una volta Praticamente Mia zia Era Praticamente Incinta All'anno Mese E gli è venuta Fortemente Una voglia Di mellone Di auguria Quella rossa Con i chicchi Neri E praticamente Era già dicembre Quindi dice Ma dove cazzo La vado a trovare La unguria Giusto giusto Qua a Palermo C'è uno Che vende Praticamente Tutte queste cose Per le donne incinte Che le tiene sempre Quindi anche Perché alla fine Anche se L'interno è marcia All'interno Allora non gliene fregano Lo conservano proprio E' uno che ha Questa cosa Per le donne Prennamente incinte Infatti È di tutto Tipo In qualsiasi mese vai Però È normale Certe cose Che fanno schifo Con la Andare del tempo Perciò Assaggia questo Mellone Mia zia A parte che Quando l'aperto Era giallo Quindi Gli lascio immaginare Tutto Faceva una Puzza terribile Però Per piacere Di Per non far venire La voglia Alla bambina Comunque Perché credono A queste cose Diciamo Che Ci è andata male Perché Era proprio acido Il mangiabile Bruttissimo E puzzava Da morire Questo fatto Lo ricordo Tuttora Perché Io Era in vita Ero piccolo Però Lo ricordo E niente Quindi Questo Cioè Avere Come dire Delle voglie Forti Culinarie È veramente È una cosa Assurda È meglio Che ve la fate passare Io penso Perché ogni volta A me mi va male Tipo L'altra volta Avevo voglia Vi spiego Che a Palermo Fanno le stiola Che praticamente Sarebbero L'interiola Non so Di qual animale Però Penso Della capra Comunque Fatte Tipo Nella bracerana In barbecue E praticamente Manca il tempo Che lo finì Di mangiare Buona E buona Mi è venuto Un senso Di vomito Terribile E un'acidità Fortissima Quindi Diciamo Che io Con le voglie Sono proprio Zero E niente Comunque Anche se voi La pensate Così come me Ovvero Che quando Si ha una voglia Forte Venite sempre Delusi Cliccate un bel Mi piace Io starei qua A parlare Veramente tantissimo Questa strana Il mio telefono Non si sta scaricando Questa location L'amo da morire E niente Ci vediamo Un prossimo video Può essere Che stasera Ne carico un altro Visto che Sono Solo a casa Quindi vedremo Io adesso Mi vedo A vestire Ci vediamo Un prossimo video Comunque Guardate I capelli Stanno crescendo Veramente Di porti Un secondo In avanti Ce li ho fatti Menadio No Fanno una settimana Oggi Quindi C'è una crescita Veramente Terribile Va bene Io lascio Vi chiudo Perché se no Altrimenti Starei qua A parlare tantissimo Potete sapere Se vi piace Questa location Così la Strutterò Molto Molto Più volte Un bacione Un bacione A tutti Ciao Comunque Può essere Che stasera Se riesco a trovare I trucchi Di mia sorella Perché io non ne ho più Vi faccio Il make up Di Halloween Perché lo faccio Ogni anno Quindi staremo Un po' a vedere Se ci saranno I trucchi Se non ci saranno Lo rifarò Un altro giorno E niente Alla prossima Ciao Ciao